Stamattina una visita graditissima. Mi è venuta a trovare Anna Magnani e l'ho portata subito fuori sul mio terrazzo. Non c'è il Tevere, ma comunque. Stamattina una visita graditissima. Mi è venuta a trovare Anna Magnani e l'ho portata a trovare Anna Magnani e l'ho portata a trovare Anna Magnani e l'ho portata a trovare Anna Magnani. Stamattina una visita graditissima. Nella garfiume c'è una stella. Girasi la voi, giro. Cantasi la voi, cantasi la voi. Grazie, Nannarella. Grazie. Grazie. Grazie.